E' stato svelato questa mattina all'ecomuseo del Freidano, alla presenza del sindaco metropolitano Stefano Lorusso, il programma dell'undicesima edizione del Festival dell'Innovazione della Scienza di Settimo Torinese. Dopo una prestigiosa antiprima che vedrà dialogare Roberto Saviano e Massimo Giannini sabato 30 settembre alla Biblioteca Archimede, il festival coinvolgerà con moltissimi appuntamenti dall'8 al 15 ottobre, oltre al comune di Settimo Torinese, anche i comuni di Avigliana, Castiglione, Chieri, Collegno, Moncalieri, Nichelino, San Mauro, Torino e Venaria Reale. Abbiamo chiesto al presidente della Fondazione ECM, Esperienze di Cultura Metropolitana, che da sempre organizza il festival insieme al comune di Settimo Torinese, di raccontarci le novità di questa edizione. Undicesima edizione del Festival dell'Innovazione della Scienza di Settimo Torinese. Ancora una volta viene conformata la vocazione di questa città tramite la Fondazione ECM, che è la fondazione che gestisce il patrimonio culturale della città di Settimo Torinese, la vocazione alla divulgazione scientifica. Settimo si caratterizza sempre più per questo aspetto. Il Festival della Scienza di Rienovazione ha questo obiettivo. Si rivolge innanzitutto alla popolazione scolastica, al mondo scolastico. per tutta la settimana vi saranno eventi che coinvolgono le scuole, dalla scuola dell'infanzia fino alle scuole superiori. E il sabato e la domenica invece abbiamo concentrato una serie di eventi di livello, io penso anche molto alto, che sono anche nazionalpopolari se vogliamo. Andiamo dalla spiegazione tecnica di molti aspetti a un momento un po' più ludico, un po' più da avere i propri spettacoli anche musicali o teatrali, perché riteniamo che la scienza, la divulgazione scientifica, debba essere un momento anche importante, un momento non solo pesante, noioso, ma solo in questo modo può arrivare alla portata di tutti. Io direi che la città di Settimo ancora una volta si conferma con questo obiettivo. divulgazione scientifica nel senso giusto e corretto della parola.